Che paura, guarda mi hai fatto perdere un battito guarda, ho visto un uomo e ho detto ma che caos... Simona, ma che cosa sta accadendo? Io non capisco niente qua. Stanno entrando i maratoneti della lunga notte di Gatannano Moretti. Spero che inizi presto perché sennò puoi scendere il lungo. Allora buona notte, buona missione, e oggi e grazie a tutti. Abbiamo fatto anche quest'altra maratona. Ma è la maratona più lunga che abbiamo mai proposto? È la maratona più lunga che abbiamo mai proposto. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Sensazione veramente strana. Uscire da una caverna, illuminato prima da Nanni Moretti e poi dalla realtà. Facilissimo, due secondi, finito. Tutto qua dentro per risposta. Siamo molto contenti di annunciare il vincitore della ventottesima edizione del Linea d'Ombra Festival, della maratona dedicata a Nanni Moretti, quindi il vincitore è Sergio Santoriello. Consegniamo il premio di consolazione all'ex eco di pochi secondi successivi al vincitore e le regaliamo questa bellissima sacra torta. Grazie. E continuiamo così, non facciamoci del male. Siamo qua per presentare un teaser documentario a Chiana, appunti per un film. L'idea è nata proprio da me e da Peppe D'Antonio e con la Banca Campagna Centro e la Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia. Un documentario che racconti, diciamo, la nostra storia, la nostra memoria. Qualcuno diceva che con la cultura non si mangia e io credo che con la cultura si mangia e si mangia contattamente, soprattutto l'animo. Forse non tanto per chi ha la mia età, ma per quelli che sono giovani è importante che sappiano quello che è successo. È un bel lavoro, sarà molto interessante, soprattutto per le nuove generazioni. Siamo prontissimi per questa finale, questa seconda premiazione finale. Siamo prontissimi per questa seconda premiazione finale. Siamo pronti, stiamo in vibrillazione. Siamo pronti, attenzione perché io lo so, io lo so, ma tu no. Oh, oh, non puoi filmare questo inciuscio. Il premio miglior documentario giuria popolare per il concorso di MigliaDoc va a... dalla parte sbagliata di Luca Miniero, Italia 2020. Il premio Banca Credito Cooperativa Carpaglia Centro, miglior film, giuria esperte, concorso, passaggi d'Europa a 12 ters. Il premio miglior film giuria popolare per il concorso di passaggi d'Europa di quest'anno va a... da Anna. Grazie. Grazie. Io mi rendo conto che cerco di parlare, di prendere posizione, di dire la mia, attraverso il mio lavoro, cerco di fare la mia piccola parte. Buon com'è nata. Bene, bene. Scontro piacevole. Molto bene, Boris. Perché comunque parli con persone con le quali hai un confronto alla pari e poi sei una persona con grande sensibilità e quindi è un piacere. Intanto ci rivedremo l'anno prossimo, solito appuntamento. Ci diamo. E tu non mi dici niente. Mi hanno chiuso fuori. Grazie. 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 Grazie.